Con il numero 10, Nicola Bello, numero 10, Marco Rossi, con il numero 14, Gabriele Romano, numero 15, Nicola Bianchi, con il numero 8, Simone Corazza, con il numero 19, Gerna Delis, numero 20, Francesco De Rosa, con il numero 31, Desiderio Garufo, e con il numero 12, la curva Fugge. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 La poteva tirare pure Corazza se si girava Non era quasi, dove stanno? Per carità, Denis No, cazzo La poteva tirare 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 Grazie a tutti.